Ciao, benvenuti nella mia cucina. Sono Daniela, ho 42 anni, vivo a Trieste, sono mamma di due splendidi ragazzi. Per oggi vi propongo le palline di grana padano d'op. Per fare le palline ci servono due albumi, che sono circa 70 grammi, 200 grammi di grana padano d'op e l'olio di semi per friggere. Grattugiate il grana padano e lo mescolate agli albumi. Mescolate bene finché otterrete un impasto bello omogeneo. Con le mani inumidite fate delle piccole palline di 10 grammi circa. Scaldate l'olio e quando è ben caldo friggete le palline, cercando di non toccarle, almeno all'inizio, perché rischiate di sgonfiarle. Quando sono diventate di un bel colore dorato, mescolate sulla carta sorbente. Servite come antipasto, sono ottimi anche per i buffet dei bambini o semplicemente come stuzzichini. Buoni! Buon appetito! Grazie.